La uscita dalla Gran Bretagna e dall'Unione Europea sarebbe un atto di autolesionismo. Non usa mezzi termini il premier britannico David Cameron nel primo serrato confronto televisivo a Sky News in merito al referendum sulla Brexit del 23 giugno. Davanti alle telecamere Cameron risponde alle domande del giornalista del pubblico, punta sui rischi economici e sulle opportunità del mercato unico, anche se ribadisce uno secco all'euro. Poi affronta il tema dell'immigrazione, anche restando nell'Unione Europea, possiamo controllarla. E sarebbe una pazzia specifica il leader conservatore provare a controllare la stessa immigrazione danneggiando la nostra economia e uscendo dal mercato unico. Dichiarazioni che hanno scatenato le proteste dei rappresentanti di Vote Leave, che letteralmente significa vota per lasciare l'Unione Europea, vale a dire il comitato a favore della Brexit. Secondo i promotori Cameron sta spaventando i britannici, sostenendo che con la stessa Brexit l'economia potrebbe controllare. Intanto tutta Europa guarda preoccupata, e il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi dichiara che qualunque sarà l'esito del referendum, la BCE non si farà trovare impreparata.